E tu, hai mai creato degli gnomi natalizi ferma porta? Ciao! Io sono Letizia, creativa del canale Vivi con Letizia dove puoi trovare tantissimi progetti di riciclo creativo, fai da te e trucchetti per casa. Nel tutorial di oggi ti mostro come realizzare un simpaticissimo gnomo ferma porta fai da te riutilizzando vecchi calzini, ma se preferisci puoi anche usare delle calze nuove, soprattutto se poi lo devi regalare. Se ti piacciono tutorial come questo, ti consiglio di iscriverti adesso al mio canale cliccando su iscriviti e sulla campanella per non perderti nessuno dei prossimi video. Se invece questo video non ti piace lasciami pure la tua critica costruttiva nei commenti. Ora passiamo al tutorial, continua a guardare! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!